Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo vlog Oggi siamo qui per parlare del vostro argomento preferito Come? Come avete detto? Sì sì, proprio lui Il cashback O mai vi siete accorti che da qualche tempo in app sono presenti un sacco di campagne di cashback? Ma prima facciamo un piccolo ripastino su che cos'è il cashback di SatisPay Il cashback di SatisPay non è nient'altro che un rimborso immediato di una percentuale della vostra spesa Aprendo l'app SatisPay nella lista negozi dell'app Selezionate il tab in alto cashback Filtrando per questa categoria vedrete tutti i negozi vicino a voi che offrono il cashback È semplicissimo perché troverete sotto il nome del negozio la tipologia di cashback che offrono Pagate il negozio e il cashback vi viene riaccreditato immediatamente sul vostro account SatisPay Ci sono due tipi di cashback Il cashback di SatisPay e il cashback dei nostri esercenti Il cashback di SatisPay sono campagne che vengono lanciate in determinati periodi Oppure in determinate zone Per sapere quali campagne di cashback sono attive nella tua zona Stai molto attento alle comunicazioni che ti inviamo via mail E poi continua a seguirci sui nostri social Ad esempio in questo periodo abbiamo l'1% di cashback fisso su tutti i negozi fisici E anche tutti i negozi online A fatto che impostiate un budget di almeno 200 euro E poi c'è l'altro tipo di cashback Quello che tutti gli esercenti possono impostare direttamente per attirare sempre più clienti nel proprio negozio Gli esercenti possono decidere di attivare campagne di cashback diverse a seconda delle proprie esigenze Andiamo a vedere quali possono essere Cashback incrementale è una tipologia di cashback che fa aumentare la percentuale di cashback ottenibile dagli utenti A seconda delle volte in cui l'app viene utilizzata La seconda tipologia di cashback invece è il primo acquisto Funziona solamente sul primo acquisto che viene effettuato nel negozio Infine il cashback che conoscete tutti Il cashback classico su tutti gli acquisti effettuati nel negozio L'app vi segnala esattamente quali sono le campagne attive E voi potete tranquillamente andare a pagare nei negozi e accumulare più cashback che potete Lo so, vi state chiedendo se le campagne di Satispay e le campagne degli esercenti si accumulano oppure vanno ad annullarsi l'un con l'altro La prima risposta è quella corretta Quindi aprite subito Satispay Andate nella lista negozi dell'app Filtrate per categoria cashback e vedete tutte le campagne di cashback che sono attive vicino a voi Perché ne vedrete veramente, veramente delle belle Vi ho detto tutto, vero? Abbiamo capito Perfetto perché io vedo che c'è un sacco di cashback qui attorno Ciao, alla prossima!